Sono Graziano Ferrari, sono andato a Breguzzo in Giudicaria nel 28 luglio del 48 e sono emigrato a Londra il 16 agosto del 66 e faccio la routine con tanto orgoglio, la mia vera vita da muleta, a Brescia, sono andato a Brescia nel 15 settembre del 63 e da lì ho incominciato prima a ciugare i cortei e le forbici e dopo mi insegnava come fare a mularle, a brunirle, a fare il lavoro da muleta infatti e da lì ho imparato questo mestiere e nel 65 volevo mettermi da solo, ma ero ancora troppo giovane perché non avevo l'età per la patente e il mio fratello maggiore lui aveva la patente ma non voleva fare il muleta, non voleva andare a battere sulle porte di casa a domandare alle donne se li va fuori sul corteo o roba da mulare, lo detestava quel lavoro lì, ma però veniva fuori lo stesso quei due o tre giorni che aveva promesso veniva, siamo andati in Valvestino, nel Berunese, nel Mantovano e giù qui in queste zone qui così, con una macchina, non fa fare la mola, la mola a pedale, la mola a Brescia, non come quella di Giustino ma quasi la stessa, da una ditta qui a Tione che c'ho tuttora giù nel mio garage qui adesso, e lì si andava fuori, insomma il business era good, si pagava una pila di soldi, in tre giorni si poteva fare la paga di un mese di un mese, di un fratello di un mese. Questo andava anche per casa però? Sì, tutto per casa, mi arrivavo in un paese, tiravo giù la mola dalla macchina per far vedere che era moletta e dopo i ragazzi del paese erano come annunciatori che ero al moletta e lì bussavo la porta e le donne sapevano già che era moletta, ecco, io avevo due forbici in mano e un corteo per far vedere che avevo preso la casa prima, magari non le avevo ancora, erano i miei ma facevo vedere che me le davano, ecco, per dare un po' di fiducia, ma non serviva perché tutti me le davano e si vede che il lavoro, facevo il lavoro bene perché dopo sono ritornato la seconda volta e subito, se la prima volta, mi ricordo in un valle di Vestino, la prima volta avevamo preso 90 mila lire in due giorni a me, in tre giorni, la seconda volta ne avevamo preso 70 mila lire al mese, erano i due, però erano tre giorni, ma però mio fratello, come ho detto prima, proprio non era il suo lavoro, ecco, e dopo è venuto fuori questa occasione di una cugina di mio padre che era a Londra, faceva il moletta e allora sono andato lì più per vedere come facevano loro, ecco, per vedere come facevano loro, dire la verità, non per andarli a lavorare, perché, come dicevo, qui prendevo, là invece i soldi erano pochi a confronto di chi, anzi erano minimi, 9 stelline, 10 stelline a settimana lì era proprio, perché lavorava abbastanza bene anche, comunque niente, il lavoro visto come facevano, sono rimasto lì e sono rimasto lì e sono lì ancora, dopo 50 passaggi, o quasi 50 ecco, qualche lì, e niente, sono lì a casa e mi ricordo il primo piano di spaghetti che è un maia, in Inghilterra, madonna, che buona che era, e loro dicono maiawe, e insomma lì non fa la gran maiawe, ecco, lì me la ricordo e non me la smetterò mai, e dopo, il giorno dopo siamo andati giù all'ufficio di registro per gli aliens, quelli che venivano fuori dall'inghilterra, si dal stato inglese, si hanno, ma dalla carta di identità, e lì niente, lì era il mercoledì, quando siamo andati lì, e il giudì ero fuori sul giro, siamo in Modesto, e lì se andavano nei negozi era già, era facile, lì non bisognava battere sulle porte come qui in Italia, lì i clienti ormai erano già clienti fissi, ti conoscevano, cioè, sapevano che tal giorno, alla tal ora eri, veniva il muleta, e allora andavi dentro, anche se non parlavi, sapevano che si aveva una tuta blu, e sapevano che l'era muleta, ecco, non dovevi neanche parlare proprio, ma Modesto mi diceva, good morning, any nights please, e mi arrivavo lì, forse mi diceva la roversa, chi lo sa, ma comunque lì, si andava avanti a questa maniera, mi ricordo anche di Bello, l'era, a confronto dell'Italia, diciamo, da qui in Italia, l'era che il lavoro era più, specialmente se avevi il tuo business, il tuo personale, era più sicuro, perché l'era andavo fuori, l'eroe in settimana, lì prendevi, insomma, l'era un lavoro sicuro, ecco, mentre che quando si girava per l'Italia, va bene, quelle prime volte che andavo io ero sicuro, però forse non ero sicuro se poteva continuare quello lì, continuava sì, quello lì sì, perché cambiava il paese, ma voglio dire, ma però lì era un altro, gli inglesi avevano un'altra mentalità, ecco, un'altra, ti sentivi più sicuro sul tuo lavoro, ecco. Quindi dopo quanto ci ripensi che è meglio stare là? Quasi subito, quasi subito, guarda, proprio non ho, sì, mi sono via per imparare cose nuove, che le ho imparate, ma dopo ormai la vita, non so, guarda, è difficile anche spiegarla come, perché e come che lui da fa così. so che la prima volta che sono ritornato in Italia l'anno dopo, sì, l'anno dopo proprio, sì, l'estate, mi sentivo già, già straniero qui. Proprio, non so neanche come spiegarmi, ti sentivi quasi che non era, che era me in Narendre, ecco. Grazie. Grazie.